Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale, ebbene sì, dopo due settimane sono tornato, scusate l'attesa, ma purtroppo queste vacanze natalizie sono stato veramente tanto impegnato, ma anche male purtroppo, quindi non c'è stato nulla da fare. E quindi spero che invece voi le abbiate passate meglio, avete potuto avere tempo per fare le vostre passioni e quindi ovviamente riprendere le vostre energie. Adesso siamo giunti comunque alla fine, io ho un nuovo anno, spero che sia iniziato bene, i miei obiettivi saranno quelli sicuramente di partecipare a più tornei a tempo lungo, perché non ne ho fatti tanti l'anno scorso, e già ho in mente di andare da tantissime parti, vorrò andare al torneo di Gubbio in Umbria, voglio andare a fare tanti 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 tornei, anche all'estero, quindi ho come obiettivo, soprattutto dal primo marzo sappiamo che l'Elofide cambierà un bel po', quindi diciamo che questa è la mia intenzione, vorrei pormi come obiettivo 2100 entro la fine dell'anno, ma anche se non ce la faccio non fa niente, l'importante è divertirsi, l'importante è imparare e quindi va bene così, però il mio obiettivo me lo voglio porre 2100, come l'avevo fatto l'anno scorso, ma purtroppo ho avuto dei brutti periodi, quindi non è stato il momento giusto per farlo. Quest'anno invece si inizia bene e si inizia subito con un nuovo video, ne ho tanti da proporre, e oggi vi porto invece un video riguardante un concetto strategico veramente tanto importante, l'alfiere contro cavallo. L'alfiere contro cavallo ragazzi è qualcosa che succederà praticamente sempre, non dico in ogni partita è un argomento determinante, ma c'è sempre da parlare alfiere e cavallo, avverrà sempre una situazione in cui un cavallo verrà scambiato per un alfiere o un alfiere per un cavallo, e c'è quella situazione, va fatto sì o no? Bene, oggi andiamo a vedere una partita molto significativa tra due grandi maestri, Bruzon, Battista, Lazaro, cubano, molto forte, lo conosco, e Timman, un giocatore che è stato ormai di una certa età, però comunque ha fatto una carriera scacchistica straordinaria. Quindi sono due giocatori di altissimo livello, si parla del Tata Steel del 2012, quindi comunque si parla di più di dieci anni fa, ma è una partita del tutto piena di significati, piena di tantissime nozioni strategiche importanti, e non mancheranno anche motivi tattici. Benissimo, partiamo subito, sappiamo che il cavallo, questa è una posizione in cui, una partita è un'illustrazione del fatto che il cavallo qui è superore rispetto all'alfiere. Andiamo subito a vedere come, perché noi sappiamo subito che il cavallo predilige le posizioni chiuse, mentre l'alfiere predilige quelle aperte. Oltre a questo dipende anche dal numero di pedoni che abbiamo e come sono disposti, perché non per forza l'alfiere è sempre un pezzo inferiore nelle posizioni chiuse, a volte anche il cavallo di norma vale questa regola. Benissimo, andiamo subito a vedere la partita 4, Bruzon è il bianco, il nero gioca teamman c5, cavallo f3, pedone e6. Benissimo, rientriamo nelle varianti con e6 della siciliana, che possono, provengono qui tantissime partite, ci possono uscire. Andiamo subito a vedere quello che succede. Il bianco gioca pedone d4, prende il centro ovviamente, c per d4, cavallo per d4. Benissimo. A6. Siamo nella siciliana Paulsen variante can. Adesso la differenza precisa non è, non... dovrebbe essere sì, è una siciliana Paulsen can. Cioè che significa? Che adesso se il bianco gioca calo c3, rientriamo in una vera e propria siciliana variante can, con il bianco e il nero che ha giocato a6. Qual è l'intenzione di a6? È quella di evitare che il cavallo vada in b5 e che poi vada in d6. E quindi eventualmente piazzare la regina in c7, che controlla tutte le case scure, principalmente la casa e5. Benissimo. Ma a questo punto il bianco gioca una delle mosse più giocate ad alto livello. Molti potranno immaginare che qui sia essenziale giocare calo c3. Sì, è vero. È un'ottima mossa. Si può giocare. Ma non è quella che mette in difficoltà il nero. Un'altra mossa potrebbe essere il sistema Maroxi, che è sempre una rottura di scatole per chi si gioca contro. Visto che io ho giocato spesso la siciliana Paulsen, l'ho giocata per più di dieci anni. I mean, c4 è sempre stato un po' una rottura di scatole, anche se non ho spesso perso, anzi ho pareggiato o vinto, da nero. Ma è sempre molto fastidiosa. L'altra mossa che mi ha sempre messo in difficoltà, ma mi ha fatto avere partite meravigliose, tant'è che ho vinto anche contro un grande maestro in simultanea, molto famoso John Nunn, ai tempi 2680 fide. Ci vinsi da nero e il bianco giocò al fiere di tre. Questa è la mossa che mi hanno tutti giocato. Grandi maestri, maestri internazionali, maestri fide, tutti. E è veramente molto forte, perché l'idea è di non mettere subito il cavallo in c3, perché il bianco vorrà fare c4 nel momento giusto. Intanto difende il pedone in e4. Quindi, tutto questo, adesso, le mosse più usuali del nero dovrebbero essere il cavallo in f6, con l'idea, poi su e5, c'è donna 5, scacco e riprende il pedone, e quindi non può farla, calo c6, calo c6, donna c7, eccetera, eccetera. Mosse del genere. Ma, che succede se, dopo calo f6, volta che giocò teamman, il bianco decide di non fare tutto ciò e dimenticare dello sviluppo dei pezzi leggeri e fare donne e due. Donne e due è una mossa importante, perché vuole sicuramente fare pedone in e5, vuole prendere spazio. Quindi qui, adesso, il nero di solito gioca gli impianti che sono chiamati impianti Scheveningen, tipo d6, alfiere 7, calo di b in d7, il famoso riccio, o anche il cavallo in c6, però comunque, pur di evitare e5, il nero mette il pedone in d6 per appunto, per fare un, un, diciamo, come si dice, un riccio, il sistema riccio, infatti. Invece no, in questa partita, il nero decide di giocare pedone in e5. Innanzitutto, il nero ha perso due tempi per muovere lo stesso pedone. Di fatto, però, il bianco perderà anche un tempo per muovere il cavallo. Vero. Ma dall'altra parte, c'è qui una differenza sostanziale. Il nero è vero che ha perso un tempo, ma il cavallo di solito va in b5 per andare in d6. Il problema è che qui non ci può andare primo, perché la regina non sta più in d1 che controllerebbe la casa di 6, oltre al fatto che c'è l'alfiere. Secondo, c'è il pedone in a6 che resta sempre utile. In molte siciliane, quasi in tutte, il nero comunque gioca sempre molto spesso a6 per evitare le entrate di alfiere o di cavallo. Benissimo. Oppure espandersi. Benissimo, detto questo, il bianco gioca una novità teorica. Qui tutti potrebbero essere tentati nel giocare cavallo in b3 o in f3, che sono le mosse tranquille, e invece cavallo f5 è la mossa che va un po' più a spiazzare teamman. Bruzon gioca cavallo f5 probabilmente per vorer un attimo spiazzare l'avversario. Molto spesso ritroviamo ad alto livello giocatori giocare mosse inusuali poco giocate, ma semplicemente perché è una loro idea per poter cercare di spiazzare la preparazione dell'avversario perché questo livello i giocatori sanno quasi tutto. Quindi bisogna andare a trovare la novità teorica mossa dopo mossa. Questa è già una novità, ma andiamo a vedere cosa succede. Il il bianco pone un cavallo in f5 molto forte, quindi adesso il nero gioca a d6 perché vuole attaccarlo con l'alfiere e magari il nero vorrà prendere per prima impedonare i pedoni del bianco e poi creare un famoso centro siciliano in cui il pedone non andrà a contrastare l'avanzata del pedone d5 e a questo punto Brouson gioca al fiere g5. Andiamo subito a vedere perché il bianco gioca al fiere g5. Il fiere g5 prima di tutto inchioda il cavallo in f6. Il cavallo in f6 è essenziale è l'unico pezzo poi che controlla il centro da parte del nero. La casa d5 e la casa d4 sono controllate dal cavallo in f6. Quindi la cilindia d5 va a contrastare il controllo del centro del nero. Benissimo. A questo punto che cosa succede? il nero mangia il cavallo in f5. L'obiettivo di d6 era oltre a sviluppare un pezzo e stabilire il centro era anche mangiare il cavallo in f5. E fin qui ci siamo. E per f5 e adesso che cosa succede? Che il bianco ha un alfiere molto fassioso contro il cavallo che va per l'appunto in futuro magari potrà essere cambiato per il cavallo perché abbiamo una posizione che è abbastanza chiusa. Il il nero ha ceduto l'alfiere campo chiaro per il cavallo in f5 quindi le case chiare sono meno controllate dal nero adesso perché non c'è più l'alfiere in f8. Quindi adesso il nero decide di giocare il cavallo di bindi 7. L'idea di prendere di cavallo per non perdere il controllo sulle case chiare. Infatti adesso se il bianco mangiasse il nero riprenderebbe di cavallo in modo che così il controllo di queste case soprattutto del centro continua a esserci perché ovviamente se avesse fatto dal fiere magari prendere il cavallo sarebbe stata una buona scelta perché poi il nero avrebbe dovuto prendere dal fiere e il controllo di queste case non è più facile da tenere da parte del nero visto che non c'è più il cavallo in f6 quindi detto questo il cavallo in b7 è giustificato questo è un centro tipico ci ricorda un pochino anche la siciliana Neidorf di alcune varianti ma ovviamente il pedone dovrebbe stare in e4 quindi di fatto potrebbe essere una versione tra virgolette peggiorata del bianco ma in realtà non è così perché non avendo giocato il bianco cavallo in c3 che ovviamente serve per oltre a controllare il centro a sviluppare e a controllare le case chiare il bianco qui ha un piccolo vantaggio non avendo sviluppato il cavallo in b u può prima di mettere il cavallo in c3 spingere il pedone c per controllare ulteriormente il centro quindi dopo pedone c4 è così qua che il bianco ritarda lo sviluppo del re è vero ma ottiene un ottimo controllo delle case chiare soprattutto della casa d5 già possiamo prevedere il futuro ragazzi possiamo già vedere come andrà a finire la struttura cioè la struttura rimarrà tale e quale comunque il futuro e il destino dei pezzi provate a indovinare quale sarà il pezzo che soffrirà molto per il nero spoiler questo alfiere ovviamente perché questo alfiere non avrà capacità di giocare benissimo alfiere in e7 mossa normale sviluppa cavallo in c3 controlla ancora di più il centro prima di arroccare il bianco non ha fretta di arroccare può farlo quando vuole arrocco benissimo adesso a questo punto arriviamo a un momento importante della partita bianco bloca alfiere per f6 alfiere per f6 è una mossa molto importante qui possiamo già ragionare e vedere un attimo la posizione la struttura pedonale è abbastanza sbilanciata come possiamo notare il bianco ha la coppia degli alfieri e in questo istante va a cedere alla coppia degli alfieri per ottenere un vantaggio posizionale ma quello che succede in partita è qualcosa di inaspettato il nero va giocato a cavallo di md7 per l'appunto in modo di riprendere di cavallo non so per quale motivo il nero va e prende gli alfiere questo non dovremmo chiederlo a timan cosa gli è successo probabilmente pensava che avrebbe attivato la torre e avrebbe creato un controruoco facile con il pedonine 4 cosa che con il cavallo avrebbe comunque potuto fare anche se magari si sarebbe reso conto che l'alfiere sarebbe stato molto più passivo anche se la presa di cavallo mi sembra più che coerente col discorso che avevamo fatto prima del cavallo in d7 giusto altrimenti perché fare cavallo d7 avremmo potuto fare alfiere 7 e magari mettere il cavallo in c6 per poi essere saltato in d4 a questo punto se tanto il nero teneva a prenderci d'alfiere giusto quindi rimane un pochino un mistero per cui non capisco perché il man abbia preso poi d'alfiere e quindi abbia messo il cavallo in d7 sicuramente avrà avuto un ragionamento dietro e non posso criticarlo per questo anzi un giocatore fortissimo però possiamo vedere come anche a volte non riusciamo a spiegarci le mosse dei giocatori nonostante magari non siano del tutto corrette possiamo anche andare a vedere al computer quindi ecco perché un attimo mi così adesso il bianco dopo alfiere per f6 il bianco ha un maggiore controllo sulle case chiare perché per l'appunto le case chiare adesso non sono controllate dal nero quindi adesso il bianco potrebbe roccare certo ma può incrementare il controllo delle case chiare molti potrebbero dire cavallo in d5 ma calo d5 non rinforza il controllo delle case chiare calo d5 sfrutta l'indebolimento delle case chiare ma noi possiamo aumentare ancora di più il controllo e lo aumentiamo con i pezzi che lo possono fare alfieri in e4 il bianco prende il controllo sulle case chiare e quindi evita un'eventuale spinta di sacrificio in e4 anche come poteva essere l'idea di nimman scusate di timman non nimman nel giocare il il pedone in e4 poteva essere un sacrificio dinamico della posizione perché in questa posizione il nero sta staticamente peggio quindi deve reagire in maniera molto repentina molto pazza diciamo e quindi qui il nero dovrebbe sacrificare un pedone pur di ottenere un po' di attività e di attivare l'alfiere quindi alfiere 4 è una mossa fantastica il nero deve giocare dinamico ma il bianco glielo impedisce benissimo torre b8 intenzione di un futuro fare b5 ovviamente il pedone b7 era anche attaccato arrocco adesso ovviamente arrocchiamo il bianco che cosa fa vuole finire lo sviluppo e controllare la colonna d magari con la torre di f cavallo in c5 benissimo attacca il nostro alfiere lo facciamo lo spostiamo assolutamente no torre in d1 perché a noi ci interessa se andiamo a vedere subito in questa situazione se il cavallo andasse a catturare l'alfiere rimarremmo alfiere contro cavallo alfiere cattivo che sbatte con i propri pedoni contro un cavallo in una posizione nettamente giusta che aperta quindi ovviamente l'alfiere resta qui non do il principio dell'attenzione ci dice di non lasciarla infatti dopo torre di f d1 donna in d7 benissimo abbiamo però un maggiore controllo del centro il nero non controlla per niente le case chiare adesso andiamo ad attaccare il cavallo in b4 con b4 il cavallo in c5 il cavallo non ha case quindi ovviamente voleva cambiarlo infatti adesso il nero timma nel asso alla tensione come deve fare in questo momento e dopo donna per e4 bruson ha ottenuto la posizione ideale guardate benissimo come il cavallo domina l'alfiere e lo vedremo subito in un istante dopo donna in g6 il nero spera nel camp delle donne perché poi il nero andrebbe a prendere il pedone di pedone così e andrebbe a controllare finalmente la la casa d5 ma ovviamente bruson impedisce il cambio di regine cavallo in d5 occupa il centro e come possiamo vedere l'alfiere in f6 non gioca in alcun modo torre di fnc8 l'idea di attaccare e contrattaccare sul lato aperto in cui i pezzi neri potrebbero giocare torre di nc1 difende ma di fatto guardate un po' ho messo le frecce prima perché l'intenzione non è solamente quella di controllare il centro ma di eventualmente fare un trasferimento con le torri e attaccare il sore perché in questo caso il re nero sembrerebbe difeso abbastanza bene dai pedoni nell'alfiere ma a breve potrà subire un forte attacco perché essendo una posizione chiusa e essendo che il nero sia in una posizione con meno spazio le torri i pezzi pesanti giocano male mentre il bianco in due secondi con la mossa dell'ascensore vanno subito all'attacco benissimo quindi adesso il nero gioca b5 adesso arriva un momento importante della partita la partita non dico che è quasi finita ma siamo in un momento importantissimo in cui il bianco deve scegliere quale mossa giocare ha il centro attaccato di pedoni il pedone c4 attaccato e adesso cosa succede pensate mettete in pausa se volete ma la mossa che gioca il bianco è importantissima la risposta è cavallo per f6 k ma qualcuno si chiederà ma com'è possibile com'è possibile cambiare un bellissimo cavallo in d5 per un alfiere che non fa nulla per un alfiere passivo è importante però notare che il vantaggio statico quello anche a lungo termine questo è un vantaggio statico posizionale a lungo termine spesso a volte non basta o comunque può essere convertito in questo caso può essere convertito in qualcosa di staticamente più forte che è la debolezza del re dopo cavallo per f6 essendo il momento giusto per farlo possiamo trasformare un vantaggio statico attraverso il cavallo e col cambio del cavallo dell'alfiere in un altro vantaggio statico ancora più forte incisivo ossia la debolezza del re e poi ci permetterà di attaccarlo questo è il nostro obiettivo infatti noi con cavallo per f6 andiamo a cedere il cavallo potentissimo contro contro l'alfiere ma il nero ottiene una posizione molto pericolosa e quindi molto rischiosa infatti qui ovviamente ragazzi non è che mangiamo perché indeboliamo solo il re il bianco avrà sicuramente calcolato una serie di mosse attraverso la quale avrebbe ottenuto avrebbe sferato un attacco fortissimo quindi qui bisogna calcolare ovviamente dopo cavallo per f6 non andiamo assolutamente a cambiare le regine chi è che sta debole con re il nero quindi cambiamo le regine assolutamente no don in h4 intenzione è attaccare f6 e eventualmente trasferirsi in h6 benissimo d5 timman sa di stare pezzo in questa posizione perché lo possiamo vedere e quindi cerca di sacrificare un pedone al costo di ottenere un gioco il più dinamico possibile ovviamente questo pedone il pedone non può prendere perché donna per c1 e quindi il nero deve creare un po' di squilibrio forse avrebbe dovuto giocare regina in d7 ma a questo punto sarebbe seguito c5 con l'intenzione di sfruttare l'inchiudatura e poi ovviamente dopo donna per f5 il bianco potrebbe avrebbe potuto prendere qui di torre e poi avrebbe portato le torri più o meno in gioco e comunque avrebbe ottenuto una posizione nettamente superiore ma dopo d5 il bianco comunque gioca regina in h6 io qui ho fatto delle frecce perché la regina in h6 è una mossa meravigliosa perché impedisce il re di schiappare difende in diagonale la torre in c1 che non si sa mai ricordiamo che il bianco potrebbe mangiare in d5 ma ricordiamo che adesso la regina difendendo la torre in c1 abbiamo un'ulteriore difesa oltre a questo le torri sono pronte ad alzarsi sulla terza traversa per attaccare il re e dare ma ok quindi il bianco minaccia di dare ma il nero si deve muovere immediatamente re in h8 l'intenzione è di portare la torre in g8 e poi fare torre g6 torre g7 scusate perché ovviamente se il nero resta così segue torre d3 o torre c3 e con torre g3 re h8 donna g7 matte quindi torre re h8 è l'unica mossa e adesso il bianco gioca c per d5 precisa poteva essere torre in d3 che torre in d3 prepara che dopo torre g8 avremo mangiato in d5 visto che adesso la regina difende la torre in c1 avremo potuto effettuare questa bellissima mossa la torre in d3 avrebbe forzato al nero di giocare torre in g8 perché minacciavamo matto in h3 quindi sarebbe seguito poi torre g7 e una volta mangiato qui la torre in c1 sarebbe potuto andare magari in c6 ed entrare nel territorio nero con c per d5 invece abbiamo regina in d6 a questo punto torre d3 non funziona più perché il nero può prendere con la torre in c8 scacco può magari portare questa torre in utile in g8 e così via quindi non funziona sarebbe stata più precisa semplicemente un ordine di mosse diverso che non avrebbe potuto il nero non avrebbe potuto fare torre in c1 invece in questo caso così vabbè adesso il bianco gioca a pedone h3 per risolvere alcuni problemi sulla prima traversa in questo caso ma qui anche il bianco avrebbe potuto sempre giocare in maniera più precisa avrebbe potuto giocare torre per c8 torre per c8 torre d3 tanto la casa c1 è coperta quindi il nero nominazioniente e dopo torre g8 torre h3 torre g7 torre c3 noi abbiamo che cosa fatto abbiamo perso un tempo mal piazzato la torre in g7 perché se facciamo subito questa la torre non è necessariamente deve andare in g7 invece una volta che la portiamo in g7 adesso portiamo la torre in c3 e avremmo ottenuto ovviamente una posizione dopo h3 distruttiva il nero non sa che fare e anzi forse deve abbandonare a breve benissimo quindi dopo donna d6 pedone h3 sempre qui l'ordine di mosse un pochino è saltato ma non fa niente perché dopo torre c4 il bruson fa un altro piccolo imprecisione che è il pedone in a4 qui avrebbe potuto vincere immediatamente dopo torre per c4 b per c4 e torre e1 con l'intenzione che dopo se il nero gioca pedone in c3 con l'intenzione di mangiare in b4 e difendere la quarta traversa attraverso la quale su cui il bianco voleva trasferirsi torre e3 invece per ottenere il pedone e poi ripenetrare sul lato di donna con la torre dopo c3 c2 ovviamente seguiva torre c3 tutte le case sono controllate ma detto questo dopo a4 comunque il vantaggio è sempre bianco perché la posizione è schiacciante e segue torre di b in c8 raddoppia le torri a per b5 ricordiamo che la torre in c1 è difesa dalla regina in h6 anche a per b5 torre a1 intenzione vuoi vogliamo occupare un'altra colonna che non è occupata dal nero torre in d4 torre di d in c1 torre di d in c4 sperando nel nel perpetuo ma il nero non giocherà più torre d1 e giocherà torre per c4 semplifica b per c4 per creare un pedone passato torre a7 in questo caso andiamo a vedere come il bianco è entrato nel territorio nel nero adesso il se non sbaglio qui il timman abbandonò perché dopo re g8 b5 ovviamente torre a7 seria per difendere il reg8 seria per difendere il pedone in f7 e dopo b5 il nero giocò c3 e a questo punto il nero abbandonò dopo torre in 4 e qui abbiamo ovviamente una situazione in cui il re è in pericolo e torre in a4 vince istantanamente perché minaccia matto in 2 scacco e poi matto se eventualmente il re va in a8 segue torre in a4 e il nero non ha più la torre in g8 che può andare a difendere il pedone in h7 quindi in pratica re g8 è stata è stato non dico un errore ma purtroppo il re doveva stare in h8 pronto per lasciare spazio alla torre il problema è che qui non si vedeva nemmeno un buon modo per difendere il pedone in h7 visto che comunque il bianco avrebbe spinto questo pedone magari l'avrebbe sacrificato la regina per ottenere un vantaggio sull'attacco r detto questo ragazzi abbiamo visto questa partita come convertire il vantaggio come convertire un vantaggio statico in un altro vantaggio più statico ma la cosa più importante è l'importanza del cavallo che quando si trova al centro in una posizione chiusa può nettamente dominare l'alfiere un alfiere quindi non sempre l'alfiere come dicono spesso è più forte del cavallo ma sicuramente nel prossimo video vi porterò una situazione in cui l'alfiere invece dimostra di essere più forte del cavallo e quindi di conseguenza andiamo a vedere entrambe le situazioni in questo caso il cavallo è stato importantissimo per controllare il centro e rendere passiva la posizione del nero perché il cavallo è stato causa di tutta la posizione del nero e poi è stato cambiato per convertire il vantaggio in un vantaggio ancora più forte detto questo ragazzi ci vediamo al prossimo video se vi è piaciuto mettete like iscrivetevi al canale e grazie mille per tutti per il supporto e un saluto ciao ciao